dobbiamo usare lo sport come mezzo di inclusione sociale per questi bravissimi ragazzi che hanno bisogno veramente di riuscire e di avere un sostegno anche nell'amore bisogna essere più attenti se non passano tutta la giornata a disegnare in colma cosa erano più rischiate perché a me si basta bisogna bisogna dargli una mano perché se lo merita